Rosina, Martigno e Almirona ruolabili. I primi tre saranno in campo dal primo minuto per la gara di domani del Massimino contro il Varese. Il Catania recupera pedine importanti e può tirare un grande sospiro di sollievo a comunicare la notizia più attesa dalla tifoserie. Non solo è stato lo stesso Sennino nel corso della conferenza stampa tenuta a Torre del Grifo al termine della seduta di rifinitura. Una buona nuova che fa da contraltare al brutto infortunio subito da Jomber che la prossima settimana sarà costretto ad operarsi alla caviglia destra. Su quelle cose che capitano mi spiace che è capitato a un ragazzo che è un ragazzo meritevole, però dobbiamo guardare avanti. Gli auguro soltanto una guarigione più in fretta possibile anche se è stata un'infortuna abbastanza grave. La sconfitta di Avellino è già alle spalle, assicura Sennino, e il Catania voglia di ripartire contro una squadra che farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote agli Etnei. Occorrerà quindi essere la squadra operaia, vista contro Entella e Vicenza, capace di soffrire e gioire possibilmente alla fine. Adesso abbiamo questa partita, secondo me, delicata, importante, ma sicuramente una partita che noi dobbiamo fare nostra contro una squadra che è in ottima forma.